Il primo gennaio 2023 saranno vent'anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber. Giorgio Gaber è stato uno dei più grandi pensatori che abbiamo avuto in questo paese. Io ho nei suoi confronti un amore assoluto, un amore totale, al punto tale che da dodici anni lo racconto a teatro, al punto tale che ventitré anni fa mi sono laureato su di lui e sui cantautori della prima generazione e Giorgio mi avrebbe fatto da correlatore laddove la malattia lo avesse permesso, al punto tale che un mese fa ho scritto per Paper First un libro a lui dedicato e pensare che c'era Giorgio Gaber. Libro che sta andando anche molto bene perché è già la terza ristampe, vi ringrazio. Il mio amore per Giorgio Gaber è giustificato dal fatto che Gaber è stato un genio. Gaber è Sandro Luporini, perché non si può prescindere dalla presenza di Sandro Luporini che ha scritto tutto con Gaber e viceversa. Il teatro canzone di Giorgio Gaber e che costituisce il vero Giorgio Gaber è un'esperienza che dura trent'anni, dal 1970 al 2000, ed è un'esperienza che vede Gaber e Luporini sempre insieme. Quindi quando si fanno i complimenti a Gaber vanno fatti anche a Luporini, quando si fanno le critiche a Gaber vanno fatti anche a Luporini. Giorgio Gaber è stato uno dei più grandi cantautori e non solo, intellettuali, pensatori, attori, drammaturghi del Novecento Italiano. È arrivato in pieno a coloro che lo hanno vissuto in diretta, ai coetani, a quelli un po' più grandi, a quelli appena più giovani che lo hanno visto più volte a teatro, perché a teatro, ripeto, c'era il vero Giorgio Gaber. È arrivato tutto sommato Gaber anche a quelli che hanno 40, 45, 50 anni oggi, e che hanno fatto in tempo a scoprirlo grazie soprattutto a genitori illuminati, non è arrivato se non in parte ai giovani. Giorgio Gaber è stato tenuto in vita, nella memoria, da molte esperienze, da molte iniziative, quasi tutte meritorie, anche se Gaber, come è capitato a De Andrè, una volta scomparso, ha subito una sorta di tentativo di santificazione, cioè quando si parla di Giorgio Gaber si tende a celebrarlo, a prescindere, a santificarlo, a smussarne gli spigoli, a renderlo più mansueto, più anacquato, più edulcorato, a ridurlo a slogan. No. Quando si cerca di ridurre la slogan, Giorgio Gaber si violenta reiteratamente la sua opera, la sua arte, la sua attitudine. Non si può fare. Giorgio Gaber è stato un artista spesso sgradevole, deliberatamente, spesso spinoso, spesso urticante, spesso deliberatamente propenso a ottenere da parte dello spettatore, da parte del fruitore della sua arte, una reazione sgradevole. Perché? Perché se ti colpiva, se risultava antipatico, eccessivamente urticante o eccessivamente iconoclasta, tu eri costretto a riflettere su quello che lui aveva appena detto, scritto, pensato e buttato dal palco. Gaber era uno che buttava lì qualcosa e andava via. Come ha scritto nella metà degli anni settanta in una delle sue canzoni più importanti, anche se non è una delle sue canzoni più note. Gaber non era facile. Gaber non regalava certezze, ma dubbi. Mettetevelo bene in testa. Altro errore che è stato fatto quando si racconta Giorgio Gaber è che si fa memoria di Giorgio Gaber. Si ricorda Giorgio Gaber. O si cerca di dire che il vero Gaber è quello degli anni Sessanta, cazzata assoluta. Gaber negli anni Sessanta era già in nuce, ribelle, geniale, rivoluzionario, ma era il 5-10% di quello che sarebbe stato nei 70-80-90, i primissimi anni 2000. Gaber era negli anni Sessanta un personaggio nazionalpopolare, televisivo, uno che viveva in radio la mattina e la sera, uno che ha fatto quattro festival di Sanremo, con delle canzoni quasi mai indimenticabili, uno che faceva un'ottima televisione ad averla la TV di Gaber oggi, uno che era bravo anche a fare il presentatore, a fare l'intervistatore, c'è un'intervista che fa a Gianmaria Volontè che è meravigliosa, pensate Gaber che intervista Volontè, rendiamoci conto negli anni Sessanta quello che succedeva, però il Gaber degli anni Sessanta, dire che quello vero è il Gaber degli anni Sessanta, fa ridere i polli, sarebbe come se io adesso vi dicesi che il vero De André è quello della canzone di Marinella, ma col cazzo, scusate la parolaccia, ma tanto lo usava anche Gaber e lo usava anche De André, De André non era quello della canzone di Marinella, era anche quello della canzone di Marinella, ma per nostra fortuna, dopo la canzone di Marinella, De André ha fatto almeno 20 rivoluzioni, e Gaber ha fatto ancora più rivoluzioni, perché è l'unico in Italia che, quando ha toccato l'apice televisivo, nel 1970 abbandona la televisione per andare a teatro, con il teatro che lo guarda storto, perché non è un personaggio puro teatrale, viene dalla televisione, la televisione commerciale, la televisione mainstream, e Gaber cambia pure anche repertorio, perché non fa più Goganga, Trania Gogò, Benzini e Cerini, allora dai, ma fa teatro canzone, nessuno ha fatto così tanta rivoluzione nel giro di pochi mesi come Giorgio Gaber, nessuno è morto e rinato più volte come Giorgio Gaber, diventando qualcosa di quasi opposto rispetto a prima, perché il Giorgio Gaber, che nel 1980 ha il coraggio di scrivere io se fossi Dio, fisicamente ha lo stesso Gaber, che 15 anni fa cantava non arrossire, o Torpedo Blu, o Cerutti Gino, trovatemi un artista che è cambiato così tanto, in così pochi anni, non c'è nella musica e nel teatro italiano. L'altro errore che si fa e che io non sopporto è quello di dire, ah Gaber sì, quello della libertà e partecipazione, e che due coglioni, e che noia con questa libertà e partecipazione, slogan che è stato utilizzato in maniera furbastra e ipocrita da quasi tutti i politici italiani, tutti i politici che ci fosse stato Gaber sarebbero stati mandati serenamente a fanculo proprio da Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Luporini ancora li manda a quel paese, purtroppo Giorgio da vent'anni non c'è più. Oppure Destra-Sinistra. Io non faccio in tempo a fare qualsiasi post su Giorgio Gaber, parlo del mio libro, del mio spettacolo, ah sì Gaber, Destra-Sinistra, che genio. Genio sì, ma Destra-Sinistra, ma era una canzonetta che Gaber aveva scritto negli ultimi anni insieme a Luporini, con le mani in tasca, e la utilizzava negli spettacoli come un divertismano, come un giochino. Gaber non è quello di Destra-Sinistra, Destra-Sinistra è lo 0,01% del suo repertorio, non è minimamente, non solo la sua canzone più importante, ma una delle 100 canzoni più importanti. Non c'è. La libertà ce la possiamo mettere, anche forse nelle prime 20-30. Forse. Ma Destra-Sinistra è una canzonetta, bellina, geniale, e questo ci fa capire quanto fosse geniale Gaber, che anche nella sua centodecima canzone in classifica, immaginando un'eventuale classifica di talento e di bellezza nelle sue canzoni monologhi, anche con la sua centodecima canzone, era un genio, e questo ci fa capire la sua forza, è la forza di Sandro Luporini, ma basta col citare Destra-Sinistra, La Libertà, oppure qualche scappato di casa che cita il conformista così a caso, senza capire niente neanche di quella canzone. Il vero Gaber è tutto quello che va dal 70 al 2000, cioè il Gaber degli spettacoli teatrali. Il Signor G, dialogo tra un impegnato e un non so, far finta di essere sani, anche per oggi non si vuole, libertà obbligatoria, poli di allevamento, anni affollati, il caso di Alessandro e Maria, eccetera, eccetera, eccetera. Io se fossi Gaber, parlami d'amore e Mariù, il grigio, il dio bambino, il teatro canzone di Giorgio Gaber, e pensare che c'era il pensiero, un'idiozia conquistata a fatica, questi sono gli spettacoli, questo è il Gaber irrinunciabile. Quando si parla di Giorgio Gaber, e bisognerebbe farlo secondo me sempre, sempre, perché Gaber è uno dei più grandi che abbiamo avuto in questo paese, dei più grandi artisti, pensatori, intellettuali, tutte le città dovrebbero avere almeno una via dedicata a Giorgio Gaber. Una via, una piazza, un monumento, tutti, tutti, esattamente come esiste via Dante, via Pirandello, via Gadda, via Ungaretti, deve esistere in ogni città via Gaber. E io mi sto battendo anche per questa piccola battaglia, e in alcuni casi l'ho ottenuta. La via o la piazza Gaber, ad Arezzo è merito anche mio, soprattutto mio, a Firenze è merito anche mio, soprattutto mio, e dei sindaci di Arezzo e Firenze, Ghinelli e Nardella. Tanto sindaci, soprattutto il primo, lontanissimi da me. Ma chi cazzo se ne frega? Se una cosa è bella, la fai con la destra, con la sinistra, con il cento, con il cinque stelle, con chi vi pare. Quindi bisogna parlarne tanto di Gaber, ma bisogna parlarne con cognizione di causa, accettando l'unicum di Gaber, perché Gaber è un unicum artistico. Ci sono dei punti fermi nell'arte di Giorgio Gaber, il suo talento smisurato. Gaber era un fenomeno. Gaber andava ascoltato e visto, perché Gaber era uno che potevi ascoltare e poi ascoltare nelle canzoni, nei monologhi, ma se lo vedevi, era ancora più forte. La sua presenza scenica era debordante ed era parte integrante delle sue opere. E per fortuna noi abbiamo qualche registrazione, non tante, perché non amava farsi riprendere Gaber. Da quando smette di fare tv nel 70, odiava la telecamera, odiava essere ripreso. Però, vuoi la retrospettiva del 1980 Rai? Vuoi la versiliana del 1991? Vuoi alcune apparizioni? del teatro canzone negli anni 90 nella tv svizzera, meritoria italiana? In questo modo tu hai il Gaber dei 70, 80, 90 e 2001, perché poi scompare dalla scena e il primo gennaio 2003, purtroppo, se ne va neanche 64 anni. Gaber andava visto e ascoltato, visto e ascoltato, perché la presenza scenica di Gaber è parte integrante del suo enorme talento e della sua arte e dell'arte di Sandro Luporini. Gaber è un unico manco a livello di discografia, perché Gaber ha detestato registrare dischi canonici. Gaber riteneva che il disco fosse freddo, non sopportava gli studi di registrazione, si rompeva le palle e quasi tutte le sue opere che noi troviamo su disco sono registrazioni fedeli dei suoi spettacoli teatrali. Poi sì, qualche disco lo faceva negli anni 80 lo ha fatto. Alcuni dischi li ha fatti anche belli, Pressione bassa era un bellissimo disco, piccoli spostamenti del cuore, ne ha fatti tanti, tre o quattro negli anni 80. Però Gaber torna a fare dischi in studio nel 2001 perché la malattia lo costringe a farlo, altrimenti non avrebbe mai rifatto dischi in studio. Questo è affascinante, ma questo rende ancora più difficile per uno che magari non conosce Gaber l'avvicinamento a Gaber. Se io voglio conoscere De André ascolto un disco. Gaber sì, posso ascoltare uno spettacolo di Gaber prendo poli di allevamento e godo come un riccio. Però è uno spettacolo teatrale, ci sono le canzoni, ci sono i monologhi. Strana sta roba, non sono abituato. Quindi è un cantautore sui generis, infatti non è soltanto un cantautore. Gaber, l'ho già detto, era uno che regalava dubbi e non certezze. Gaber era uno che viveva per il teatro, faceva 100, 120, 140 date l'anno, due ore di prove, tre ore di spettacolo e quando si fermava d'estate era per tornare nella sua Versilia andare da Sandro Ruporini e fare lo spettacolo nell'anno successivo. Gaber viveva teatro per il teatro. Gaber non era un artista facile, l'ho già detto, ma lo ripeto. Gaber non è soltanto quello di Non insegnata ai bambini, che è una canzone bellissima che tutti citano, ma Gaber è anche e soprattutto quello di Quando è moda è moda. La canzone scritta alla fine degli anni 70 dentro uno spettacolo intitolato Poli di allevamento dentro la quale Gaber manda quel paese alla sinistra e i finti rivoluzionari. Gaber è quello di Io se fossi Dio. La canzone più dura mai scritta, mai scritta, sì, nella storia della musica italiana. Non c'è nessuna canzone censurata, dura, violenta, come Io se fossi Dio. 14 minuti devastanti che escono nel 1980 e che hanno anche il coraggio d'incoscienza, la spudoratezza di prendersela anche con Aldo Moro che era stato ammazzato dalle Brigate Rosse due anni prima. Gaber è anche questo, è anche sgradevole, finitela con questa storia di edulcorare, santificare Giorgio Gaber perché quando lo fate, fate un reato morale e artistico. Gaber era una bella persona, l'ho conosciuto ed era una bella persona e questo ha reso il suo distacco da questo pianeta, dalla vita terrena ancora più faticoso per chi lo conosceva perché sai, fosse stato uno stronzo e molti artisti sono bravissimi ma stronzi l'avresti tollerata meglio. Gaber no, era anche una bella persona e ve lo garantisco perché l'ho conosciuto e nel mio libro e pensare che c'era Giorgio Gaber edito da Paperfest uscito un mese fa racconto anche tanti aneddoti e tanti incontri che abbiamo avuto. Gaber Gaber è stato un ottimo musicista anche se non tutti se ne sono resi conto ma Gaber era un ottimo musicista. Se voi parlate con Ivano Fossati che io conosco con cui ho scritto il libro Il Volatore 2006 Gaber vi dice Fossati vi dice, scusate che Gaber era anzitutto un grande musicista più ancora che un grande attore più ancora che un grande autore di testi era un grande musicista. Ora magari Ivano esagera nel senso opposto perché per me era anche un grandissimo attore ma sicuramente era un ottimo musicista un ottimo chitarrista e un ottimo musicista. Gaber era una presenza scenica debordante sebbene non abbia mai avuto un fisico sanissimo perché in tenera età ha la puliomelite che lo debilita in tutta la parte sinistra del corpo che è anche quella che serve per fare gli accordi e se voi notate come lui suonasse la chitarra vi rendete conto che lui suonava la chitarra in maniera tutta sua particolare tipo Django Reinhardt che era un grandissimo chitarrista jazz che dovette imparare a suonare la chitarra in maniera tutta sua perché in un incendio aveva perso buona parte dell'uso della mano e Gaber era un grande animale da palcoscenico sebbene per più di dieci anni abbia vissuto con la malattia non tutti sanno che Gaber nel libro del racconto scopre la malattia alla fine degli anni 80 durante il grigio quindi Gaber scopre di avere un cancro a 48 anni 49 e per quasi 15 anni convive con questa spada di Damocle e vi posso garantire che negli anni 90 se lo andavi a vedere a teatro non te ne accorgevi se non nelle date finali quando era oggettivamente debilitato come era debilitato l'ultima volta che andò in televisione ospite di Adriano Celentano Gaber a proposito di tv non andava mai in tv dal 70 in poi se non costretto da amici che adorava Gianni Minà Raffaella Carrà Adriano Celentano e ogni volta che ci andava si vedeva lontano meglio che era imbarazzatissimo l'unico che lo rendeva meno imbarazzato era Gianni Minà con cui c'era un rapporto straordinario e anche per questo ho voluto Gianni Minà dentro il mio libro come uno dei narratori di Giorgio Gaber Gaber ha scritto degli spettacoli straordinari per me tutti per me li dovete vedere tutti e ascoltare tutti vedere non è facile perché non è che c'è proprio tutto registrato ogni video ogni spettacolo però lì si può ascoltare tutti fatelo soprattutto con quello degli anni 70 fatelo soprattutto con spettacoli come libertà obbligatoria e poli di allevamento quest'ultimo poli di allevamento 78-79 ha il titolo preso da Pasolini e poi a Pasolini ci arrivo e ha gli arrangiamenti di Giusto Più e Franco Battiato avete capito bene Giusto Più e Franco Battiato Gaber è colui che scopre Franco Battiato nella metà esalta degli anni 60 Gaber nei ritagli di tempo era anche un grande tale scout perché scoprire Battiato a 22 anni Battiato aveva 22 anni Gaber qualcuno in più non era facile perché Battiato a 22 anni non sembrava un fenomeno come poi effettivamente si rivelò essere in poli di allevamento noi abbiamo i testi di Gaber Luporini un Gaber strepitoso un Luporini strepitoso e gli arrangiamenti di Giusto Più e Franco Battiato una perfezione assoluta assoluta ascoltatelo dall'inizio alla fine perché è un capolavoro incredibile poli di allevamento Gaber come Pasolini ci sarei arrivato ve l'avevo detto Gaber come Pasolini era è stato sarà un intellettuale che le cose le vedeva prima ed era profetico e preveggente anzitutto quando non avrebbe voluto essere profetico e preveggente Gaber come il Pasolini degli iscritti corsari ha raccontato il presente e il futuro per questo le sue opere sono incredibilmente attuali incredibilmente profetiche Gaber era un uomo intellettualmente onestito testissimo che cercava di provocare sistematicamente non per il gusto della provocazione ma per costringerci a riflettere Gaber a volte cercava deliberatamente lo scontro la contestazione il fischio perché l'intellettuale deve fare così Gaber era un gabbiano ipotetico cioè credeva che soltanto la spinta in avanti l'intenzione del volo potesse rendere l'uomo vero vivo libero Gaber attaccava tutti destra sinistra centro soprattutto la sinistra perché veniva dalla sinistra ed era stato deluso dalla sinistra attaccava e bastonava tutti non per qualunquismo ma per utopia perché era esigente Gaber era un cane sciolto Gaber era un anarcoide Gaber era irripetibile non avrà nessun erede perché non puoi raggiungere il suo livello il suo livello di genio di bravura tecnica di bravura interpretativa la sua incoscienza commerciale il suo coraggio le sue rivoluzioni Gaber è unico sarà sempre unico Gaber va studiato nelle scuole Gaber va ricordato come uno dei più grandi intellettuali di sempre l'ho già detto lo ripeterò sempre perché ne sono fermamente convinto Gaber va ascoltato visto Gaber bisogna perdercisi dentro perché è divertente Gaber faceva ridere tantissimo ascoltatevi Luciano monologo che fa ridere da morire o quello che perde i pezzi o l'odore Gaber faceva piangere ascoltatevi un monologo come l'insolito commiato del signor Augusto Gaber ti faceva indignare quindi ti faceva restare vivo pensate a qualcuno era comunista Gaber Gaber era uno che non ti dava slogan Gaber era uno che non cercava mai l'applauso facile Gaber era uno che era uno che buttava lì qualcosa e poi se ne andava e quando lo vedevi dal palco buttare lì qualcosa e andarsene beh ti sentivi meno solo ti sentivi meno solo e quando finiva lo spettacolo ti sentivi addirittura migliore eri diventato migliore più vigile più attento più utopico più più vivo più libero per osmosi stando accanto a un uomo così vero così vivo così libero così bello eri diventato più bello più vivo e più libero anche tu era bello Giorgio Gaber era tanto tanto bello e a me manca tanto sono vent'anni che mi manca e mi mancherà sempre e anche per questo cercherò sempre di raccontarlo in ogni contesto a teatro in televisione sui libri perché Giorgio Gaber è stato veramente un gigante mi manchi Giorgio mi manchi parecchio a teatro